Piango, no? Sì, perché il tempo passa troppo in fretta. È l'ultimo giorno di Joy, il camp estivo a vocazione sociale organizzato da Sport Senza Frontiere. Salutano gli amici, ma sanno che si ritroveranno l'anno dopo. A vivere una vacanza di sport, natura, gioco, amicizia. Ma soprattutto di solidarietà, perché con la loro quota di iscrizione hanno sostenuto la vacanza di un altro bambino che si trova in difficoltà, che ha subito traumi o che proviene da zone a rischio. Perché tutti hanno bisogno di Joy. E quest'anno devi esserci anche tu. Puoi partecipare a Joy anche nella Formula Weekend e durante la settimana in città, nei centri estivi che aderiscono alla nostra rete solidale. Grazie. Grazie. Grazie.